Perché l'omocisteina elevata costituisce un importante fattore di rischio cardiovascolare? L'iperomocisteinemia è associata ad un aumento del rischio di varie malattie cardiovascolari, tra cui aterosclerosi, cioè livelli elevati di omocisteina, possono danneggiare l'endotelio dei vasi sanguigni, promuovendo il possibile l'infarto cardiaco di crisi cerebrale. L'iperomocisteinemia favorisce anche la trombosi, cioè può aumentare la tendenza del sangue a coagularsi, portando quindi a un rischio maggiore di formazione di trombi. E questo può causare delle condizioni come trombosi venosa profonda, embolia polmonare ed altre patologie vascolari. L'omocisteina è un aminoacido prodotto naturalmente dal nostro organismo durante il metabolismo appunto dell'omocisteina e la sua conversione in metionina o in cisteina, due aminoacidi fondamentali. Normalmente l'omocisteina viene convertita in cisteina appunto in metionina attraverso processi enzimatici, senza andare troppo nel tecnico, questi processi sono fondamentali per il metabolismo in generale del nostro organismo. Tuttavia alcune condizioni possono compromettere questa conversione, portando quindi ad un accumulo di omocisteina nel sangue e quindi noto come iperomocisteinemia. Tra le cause di aumento di questa omocisteina ci sono la carenza di acido folico, ad esempio, anche in particolari condizioni quali la gravidanza, e soprattutto la mutazione del gene MTHFR, metilentetraidrofolato reduttasi, che è una variabile genetica, questa alterazione, che può influenzare appunto il metabolismo dell'omocisteina nel corpo. Questa alterazione genetica produce quindi un accumulo di omocisteina e una deplezione di un amminoacido essenziale che si chiama metionina, importante amminoacido, ripeto, essenziale, cioè ne abbiamo necessità per la detossificazione del fegato, ripare il DNA per la sua azione antiossidante, per la sua azione nella sintesi proteica, insomma una varietà notevole di funzioni di questa metionina, che lo ripeto è un amminoacido essenziale. L'alterazione dell'MTHFR, questa alterazione genetica, inibisce in qualche modo la sintesi di metionina e in controparte da un aumento della omocisteina, dando appunto una iperomocisteinemia. Quando ci sono mutazioni appunto di questo tipo genetica MTHFR, l'attività enzimatica e quindi può essere ridotta, non dico totalmente soppressa ma notevolmente ridotta, e portare quindi appunto, come abbiamo detto, livelli elevati di omocisteina. La gestione dell'iperomocisteinemia, soprattutto quando è associata a mutazioni del gene MTHFR e per avere questa diagnosi bisogna fare degli esami genetici, si concentra principalmente sull'ottimizzazione di livelli di omocisteina attraverso la supplementazione di vitamine del gruppo B. La terapia infatti tipicamente include acido folico, vitamina B9. La supplementazione con acido folico è centrale nella gestione dell'iperomocisteinemia, poiché contribuisce al metabolismo dell'omocisteina, facilitando quindi la conversione in metionina. Quindi l'acido folico, ripeto, ha una funzione centrale. La dose giornaliera di acido folico può variare a seconda delle necessità, generalmente dai 400 agli 800 microgrammi, ma in presenza di iperomocisteinemia e mutazione MTHFR può essere necessario aumentare la dose. Cioè, quando la causa dell'omocisteina è comunque dovuta a una carenza di acido folico, va bene una quantità, diciamo, normale di acido folico, ma quando questa è dovuta a un'alterazione dell'MTHFR, e per verificare questo è necessario fare un test genetico, l'acido folico deve essere attivato, cioè di una forma, come dire, più attiva perché deve assolutamente supplementare la carenza importante che questa alterazione genetica dà. Questo tipo di acido folico è chiamato, appunto, acido folico metilato. Inoltre, la vitamina B12. La vitamina B12 agisce in sinergia con l'acido folico e anche qui le dosi possono variare a seconda dei livelli basali di omocisteina e appunto della risposta del paziente, quindi assolutamente personalizzata anche il dosaggio della vitamina B12 che comunque varia tra i 500 e i 1000 microgrammi al giorno. In alcuni casi potrebbe essere necessario appunto un consulto medico specialistico in genetica oppure un nutrizionista per un piano di trattamento dettagliato personalizzato. Monitorare periodicamente i livelli di omocisteina e adeguare eventuale integrazione, in base alla risposta, può contribuire ad ottimizzare il rischio di malattie cardiovascolari. In conclusione, una valutazione costante e periodica dell'omocisteina costituisce un buon fattore di prevenzione per quanto riguarda le malattie cardiovascolari.